Dalla 24 ore Come dalla 24 ore Anche questo No papà Anche tutti Anche tutti Anche tutti Non si può Non mi piace No mamma Ma chi visita i punti Ma questo pieva E' un paia Che condensa Abbiamo pulito con la monia Papà possiamo mettere le scuole Ma è comunque Dove mettere i miei 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 Grazie. Grazie. Grazie.